Il 2024 comincia bene per la Taros Spezia che al Palace Sprint si è imposta per 78-74 al Castel Fiorentino. Solo 4 punti di distacco a spese di un avversario che fa analino di coda nel girone B della Serie B interregionale di Palacanestro ma l'importante era tornare quanto prima possibile al successo e i tarosiani ci sono riusciti. Ora non rimane che recuperare anche il lungo degente Rajacic, si spera di poterlo fare già nel prossimo impegno, nel weekend a venire ad Arezzo contro l'Amen. Siamo felici ovviamente di essere ritornati alla vittoria dopo qualche giornata di difficoltà dovute ai tanti infortuni, diciamo degli elementi principali, dei componenti principali della squadra, in particolare è rientrato Sacalas, la nostra rarituana che ci ha aiutato molto e grazie a lui sono convinto che riusciremo a ritornare ai livelli di inizio campionato. Adesso ovviamente aspettiamo anche Rajacic che a breve dovrebbe essere di nuovo dalla partita. Sicuramente ora dimostreremo nelle prossime partite quanto valiamo a differenza delle ultime, delle precedenti tre giornate dove ovviamente le assenze, soprattutto a livello fisico, si sono fatte molto sentire. Non è andata altrettanto bene invece nel girone nord della Serie 2 nazionale di basket femminile alla cestistica Spezzina sconfitta al Palamariotti di tre punti dalla capolista, il San Giovanni Valdarno Galli. Spezzina è al momento ancora a centro classifica ma urge riprendersi quanto prima e allora forse casca a fagiolo la seconda partita interna consecutiva che domenica prossima al Palamariotti ore 18 vedrà le Bianconere ricevere quel San Giorgio Mantova che ha un paio di punti in più.